Parlaci ancora della materia. Cerchio e seno attraverso NT 13 gennaio 2001 a cura di VB domanda Parlaci ancora della materia. Entità Amedeo. La materia innanzitutto è la concretizzazione dell'energia e l'energia fa parte dell'unità spirituale. Quando un'entità decide di incarnarsi per continuare il suo percorso evolutivo sia su questo pianeta sia su altri pianeti usa come veicolo la materia e questa materia acquisisce poi una forma che voi conoscete come corpo e nel vostro caso corpo umano. La materia ab origine si può definire come res nullius, poi diviene res extensa ed in ultimo quando lo spirito la usa come veicolo essa diviene res cogitans. Quindi non è il corpo che subisce le varie incarnazioni dell'entità ma è la materia come substrato universale e come concretizzazione di energia che viene utilizzata come res cogitans. La materia si può anche definire come espressione ultima. Questa parte della registrazione è risultata disturbata per cui non si può procedere alla sua trascrizione. Quindi vedete come la materia può essere considerata all'infinito? E di particella in particella si arriva all'energia primigenia. Ecco cos'è che subisce i cicli reincarnativi dell'entità, l'entità in primis e la materia, come ve l'ho descritta, come conseguenza ed effetto. Commento. L'entità Amedeo, più di 30 anni fa del tempo umano, apportò a chi scrive una vertebra lombare. Lo aveva fatto più volte con altri partecipanti per distaccarsi, scomponendolo, da un antico corpo fisico a cui era ancora molto legato. Da questa comunicazione risulta evidente come Amedeo abbia raggiunto una maggiore evoluzione. Una nota. Mentre Cartesio, 1596-1650, con res cogitans, sembra intendere la realtà psichica, l'entità Amedeo, e non solo il suo cenacolo, attribuisce alla frase il maggiore significato di materia mentale.